Anche oggi, 9 giugno, Rinaldo Berucci ha rifiutato il confronto televisivo con i candidati sindaco. Era previsto ad Antenna Sud e innanzitutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che vorrebbero ascoltare le proposte e le idee di ogni candidato sindaco. Un motivo in più, il 12 giugno, per mandarlo a casa, per buttarlo politicamente in mano. Autore dei sorrisi